una e 23 di notte si sta eseguendo un testo nella centrale di svagna dobbiamo sosseglie abbassare la potenza si dobbiamo portarla fino a 700 megawatt una e 25 a un certo punto si aprono tutti gli allarmi attivo lo scrum ok scrum attivato oh mio dio cosa sta succedendo una e 26 cosa diavolo è successo non lo so chiamate i pompieri ok ah no 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 Sei anni dopo costruirono il primo sarcofago Per la centrale nucleare Pronto? Sì, riceviamo La situazione nella centrale è pessima Ci sono 10.000 Ergen per ora Quanto pensate di resistere ancora? Siamo qualche minuto e poi ritorniamo Ok L'incidente ormai è fermato La vera domanda è Si può ancora rimanere al sicuro?